Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì, siamo ancora con la Street Perugia qui con CipperTV e questo sarà l'ultimo allenamento della settimana, quindi dobbiamo dare tutto. Inizieremo con delle camminate Animal Walks per attivare tutto il corpo, aumentare la circolazione del sangue e aumentare la temperatura del corpo. Ci avremo poi un arm wrap di 5 minuti in cui avremo 10 front squat con il PVC, dovremo stare attenti a scaldare bene la bottom position per il lavoro che dovremo fare in seguito, 10 calorie allo schierg e 10 box step up and down, sempre perché nel workout di oggi ci ritroveremo questo tipo di movimento. Il lavoro che va fatto prima del workout è il lavoro di forza in cui avremo 15 minuti per trovare il massimo carico in cui riusciremo a fare due ripetizioni di front squat in cui però avremo un fermo in buca di 2 secondi, quindi sarà un lavoro molto intenso in cui la risalita dovrà essere esplosiva al massimo. Il workout di oggi è un team ward, quindi lavoreremo a coppie. È un arm wrap di 20 minuti, quindi sarà bello lungo e intenso. I go you go, quindi partirà il compagno che farà 5 front squat con 70 kg RX uomo e 45 kg RX donna, 10 hard step a 60 cm, seguito poi da 10 calorie alla bike uomo, 7 calorie alla bike donna. Buon divertimento e buon weekend!